Alcamo è stato scelto come comune pilota per la donazione di 200 compostiere sia ai cittadini ma anche alle scuole, se ne parlerà domani alla scuola Bagolino di Alcamo. Sì, allora dai diamanti non nasce niente, dai rifiuti può nascere la vita. Questa è una frase che è parzialmente rielaborata che abbiamo preso da una celebre canzone di De Andrè e con questa frase abbiamo intitolato l'iniziativa di domani per la presentazione di un progetto sul compostaggio ossia di sensibilizzazione e formazione alla pratica del compostaggio. Il progetto prevede anche la donazione in vari step delle compostiere ai cittadini da mettere anche in alcuni luoghi strategici pubblici come ad esempio le scuole dotate di mensa. Ora questo come hai già detto è un progetto a cui noi siamo particolarmente legati abbiamo scommesso su Alcamo per avviare questo progetto e appunto poi nell'intendimento di ampliarlo anche ad altri comuni siciliani. Per noi questo è un progetto particolarmente importante perché la riduzione dei rifiuti l'aumento della raccolta differenziata, della frazione compostabile sono obiettivi fondamentali a cui dobbiamo tendere anche per la situazione in generale che c'è in Sicilia la penuria di impianti che mettono in grave difficoltà i comuni quindi bisogna assolutamente intervenire da un lato anche i cittadini possono fare tanto nell'attesa che questi fatidici impianti pubblici vengano realizzati abbiamo notato che c'è molto istruzionismo quindi i tempi purtroppo sono sempre lunghi quindi ogni cittadino può fare veramente molto per la situazione per allevere la situazione dei comuni, per il proprio ambiente e per il nostro suolo anche perché la riduzione dei rifiuti attraverso la pratica del compostaggio è molto utile anche per il nostro suolo perché si produce un materiale che si chiama compost che è un terriccio che fa benissimo alle nostre piante, ai nostri vasi, nei giardini come dicono tutti coloro che praticano il compostaggio queste 200 compostiere comunque sono state acquistate grazie a voi del Movimento 5 Stelle che avete tolto parte del vostro stipendio quindi è importante che domani venga più possibile qualcuno per capire anche come poter soffrire di queste compostiere anche per una questione di rispetto dell'ambiente insomma del futuro che prevede anche insomma i rifiuti e la salute di tutti noi Esattamente, questo è un progetto che abbiamo realizzato con le nostre restituzioni quindi dal Movimento 5 Stelle all'Ars abbiamo proposto vari progetti in vari comuni siciliani ma questo in particolare speriamo di replicarlo stiamo puntando fortemente a questo progetto a cui crediamo fortemente quindi invito tutti i cittadini domani a partecipare perché ognuno di noi può fare veramente tanto per migliorare la situazione dei rifiuti